è siciliano come lui ma che vuol dire essere siciliano? non ce la faccio mi vergogno non mi viene da dire roba scusate è da mezz'ora che mi seguite e no perchè volevamo dirle che il 7 novembre inizia a viva Radio 2 su Radio 2 alle 13 e 40 Fiorello e Marco Valdini io me ne stai fottendo ma era quello vero quello vero era si